Per la prima volta una lancia d'oro è stata presentata alla città in Piazza Grande. È quello che è avvenuto prima della provaccia dedicata a Massimo Benigni. Si tratta della presentazione della lancia d'oro dedicata al Giubileo della Misericordia e realizzata da Ivan Teimer. Sarà messa in palio sabato 27 agosto. Prima che parta per Roma, dove sarà esposta ai Musei Vaticani, il sindaco Ghinelli l'ha voluta mostrare alla città. Il tutto dopo la consegna da parte di quattro cavalieri speciali dei centri scuderia PAN, Tir Nanog, affiliati Fise e Coni e Il Cerchio. I ragazzi del progetto di riabilitazione equestre hanno scortato la lancia al centro della Lizza per poi accompagnarla simbolicamente fuori dalla piazza, dove sarà poi costudita, come detto, nei Musei Vaticani per circa due mesi. Oltre al sindaco Ghinelli sono stati presenti l'assessore alla Giostra Gianfrancesco Gamurrini e il presidente dell'istituzione Giostra Franco Scorticci.